hanno gettato al vento questa rimessa regalando il pallone agli avversari sono avanti di un gol con la partita che volge al termine guai però ad abbassare la guardia devono rimanere concentrati se vogliono accedere al prossimo piede il loro obiettivo è vincere l'EA Shield e oggi sembrano esserci tutti i presupposti per andare avanti hanno segnato un altro gol e questo permette di gestire il risultato con una relativa calda palla che è carambolata sul palo prima di finire il rete colpo da vigliato dell'attaccante con palla in buca d'angolo si riparte con il risultato di 5 a 3, tanti gol si avvicina all'area